Attenzione, attenzione, perché questo è un momento molto delicato della stagione. Attenzione signori, perché Juventus-Spestia riesca di diventare una delle partite più importanti che andiamo a giocare in questi giorni. Ragazzi, ci siamo già giocati tantissimi jolly, la dea bendata sta continuando ad aiutarci, non possiamo assolutamente ignorare ancora una volta tutti i suoi consigli. Quindi attenzione a Juventus-Spestia, oggi alle 18, attenzione. Classifica aggiornata, probabili formazioni e statistiche interessanti, andiamo a sviscerarla questa partita, perché aver l'ansia per Juventus-Spestia ci dà una serie indicazione su quella che è la nostra stagione, ma allo stesso tempo ci fa capire che ora potrebbe dipendere tutto da noi. OneFootball da scaricare, link qui sotto in descrizione, appunto per vedere cosa faranno le altre coinvolte in questa lotta all'Europa che conta, perché ieri la Roma ha perso, anzi ha vinto contro l'Atalanta, ha vinto 1-0 contro l'Atalanta. L'Atalanta ha perso su OneFootball, potrete monitorare in temporale tutte le altre partite, anche per le zone meno nobili della classifica, e potrete vedere anche gli aggiornamenti in temporale per la formazione che andrà a scaricare oggi Massimiliano Allegri. Scaricatela, è gratis e da qui sotto in descrizione. Tutto quello che vedrete in questo video è stato realizzato tramite OneFootball, tutte le notizie, tutte le statistiche, quindi attenzione. Ieri ho twittato questo, vincere di corto muso, di lungo muso, di tiki-taka, di contropiede, con un gol decisivo al minuto 1, o un gol al minuto 94, con Reti Rivlaovic o con un autogol, ma vincere. Perché stasera, avete visto la classifica, se non l'avete vista ve la faccio rivedere, adesso dipende da noi. L'Atalanta ha una partita da recuperare, se noi vinciamo oggi, anche con l'Atalanta che vince quella partita, rimane quinta. Quindi se noi da qui alla fine le vinciamo tutte, andiamo in Champions, noi, non l'Atalanta, ci andiamo noi. Quindi attenzione, attenzione, attenzione. Oggi è indispensabile vincere. Ragazzi, la Juventus non può perdere questa occasione. Ancora una volta torna in una situazione in cui tutto dipende da te. Nonostante il pareggio con l'Atalanta, nonostante il pareggio col Torino, nonostante tanti momenti in cui hai detto, cavolo, da oggi in poi dipende da te, perché ci hanno fatto l'ennesimo regalo. Quindi attenzione, Juventus-Pezia è indispensabile. Sia Romeo che OneFoodle parlano di questa cosa qui. Allegri sta studiando in quest'errore la formazione migliore con la quale scendere in campo. Possibile 4-3-3, addirittura con Scesani tra i pali, difesa 4, con Rugani ed Elite centrali. Sugli esterni Danilo e Pellegrini, destra, sinistra. Emelian Arturo, Locatelli e Rabiot, per forza ci sono solo quelli. E davanti Morata, Vlaovic, quadrado, tridente. Unico ballottaggio potrebbe coinvolgere Vlaovic e Moise Ken. E da qui la domanda che vi pongo. Allegri schiererà i migliori? Perché la formazione che vedete, che vi ho messo giù, e che è quella che consiglia anche Romeo, sì, va a schierare i migliori. Ma Vlaovic non deve riposare? Non ha necessità di riposare? Non è possibile immaginarsi davvero Ken dal primo minuto? E qualcuno potrebbe dire, in una partita del genere in cui dobbiamo vincere, è una semplice diseguazione, Vlaovic maggiore di Ken. Ok? Ci siamo tutti su questa, penso possiamo essere tutti d'accordo. Però vedrete che, vi ho tirato fuori qualche statistica inerenta Morata, Ken, Morata e Ken e Ken singolo, che potrebbe farvi cambiare idea. Potrebbero esserci comunque buone notizie per la Juventus. Fatemi solo sottolineare come in realtà questo potrebbe essere anche un 4-4-2, con Quadrado e Rabiot esterni, l'abbiamo già visto tante volte. Così come potrebbe essere una difesa 3, perché Danilo, Rugani e Delit potrebbero fare i tre centrali, Quadrado e Pellegrini esterni di centrocampo e Vlaovic e Morata la coppia di attacco. Quindi attenzione che con questi 11 giocatori e anche con Ken al posto di Vlaovic non cambia veramente niente, possono essere 4-3-3, 4-4-2 o 3-5-2. Non cambia assolutamente niente se non ho la disposizione in campo. Dipenderà molto come vorrà provare a far male Allegri allo Spezia, però questi dovrebbero essere gli 11-12, c'è l'unico ballottaggio che è lì davanti appunto tra il nostro attaccante più forte e Moise Ken. Queste sono le statistiche. Iniziamo. Alvaro Morata, 36 presenze, 2.384 minuti, 8 gol e 4 assist in totale in tutte le competizioni. Alvaro Morata ne ha giocate 26 da titolare dove ha fatto 7 gol e 2 assist. Ne ha giocate 10 da subentrato dove ha fatto 1 gol e 2 assist. Il che significa che, bene o male, Alvaro Morata, che parta dall'inizio, che non parta dall'inizio, ha lo stesso contributo goal. Ecco, per contributo goal intendo goal più assist. Quindi 34.6 da titolare e 30% invece la subentrante. Quindi non cambia tanto quando Alvaro Morata parte o non parte. È un giocatore che anche dalla panchina riesce a dare il meglio di sé. Poi qua vi faccio vedere dove sono stati distribuiti i gol e gli assist nelle varie competizioni. Quindi potete mettere in pausa e osservare un po'. Tra l'altro mi sono fatto un massotanto per ricavare tutte queste statistiche. Le ho fatte tutti a mano da OneFootball andando a vedere tutte le formazioni, andando a vedere tutti i gol, gli assist, i video che andava a proporre con gli highlights delle partite. Quindi veramente questa tabella che in due minuti abbiamo letto nasce da almeno un'oretta, un'oretta e mezza di raccolta dati su OneFootball. Andiamo a vedere Moise Ken che è molto molto interessante perché Moise Ken ha fatto 28 presenze. millequattro minuti, quindi ha giocato molto meno di Alvaro Morata, tra l'altro inerente alla Juventus perché lui ha giocato anche un paio di partite con l'Everton quest'estate, una in Premier League e una in Coppa. Ha fatto cinque gol e un assist. Ma attenzione perché i numeri qua sono incredibili perché Ken ne ha giocate dieci da titolare. All'interno di queste dieci partite da titolare Ken ha fatto cinque gol e un assist. Quindi un contributo del 60%. Su dieci partite è intervenuto sei volte tra gol e assist, 60%. Da subentrato ben 18 volte, zero gol, zero assist. Che cosa significa? Che Moise Ken si trova molto più a suo agio quando parte dal primo minuto, quando invece entra non riesce a dare il suo supporto. Vuoi perché gioca a meno minuti? Perché magari entra al settantesimo, settantacinquesimo, ottantesimo. Vuoi perché preferisce lui stesso essere dentro la partita, riesce ad entrare meglio nella partita partendo dal primo minuto? Però questo è. Se andiamo a tenere in panchina Moise Ken, sappiamo che fino a questo momento in stagione non è mai riuscito a dare quel qualcosa in più da subentrato. Non è mai riuscito ad aiutare l'Iventus né con un gol né con un assist. Invece dal primo minuto ha una grandissima percentuale. Poi dovete anche considerare che mi viene in mente perdere il derby col toro dell'andata. Moise Ken parte titolare poi viene cambiato al 45esimo, sostituito. Quindi non le ha nemmeno fatte tutte da titolare. Quindi sono numeri interessanti quelli di Ken da titolare. Poche volte titolare ma ci ha quasi sempre messo lo zampino. Andiamo a vedere perché qua ci sono delle altre statistiche interessanti perché Morata più Ken eventualmente porta bene alla Juventus insieme dal primo minuto soltanto in due occasioni. Bologna Juventus 0-2 Juventus Cagliari 2-0. Entrambi vittoria della Juventus e con gol di Morata con Bologna e con gol di Ken con Cagliari. Quindi insieme le uniche due volte che sono stati schierati insieme al primo minuto sono andati entrambi in gol. Tra l'altro aggiungo che Moise Ken il primo gol di ritorno con la Juventus lo fa proprio con lo Spezia e lo vediamo qui sotto perché queste sono le cinque partite con Kering gol. Spezia Juve 2-3 vinta. Juventus Roma 1-0 gol di Ken vinta con gol di Ken. Juventus Cagliari 2-0 appunto vinta. Empoli Juventus 2-3 ve la ricorderete perché è molto molto recente vinta. Juventus Balbo 1-0 gol di Ken vinta. Quindi Ken ha fatto cinque gol in cinque partite diverse e in tutte cinque la Juventus ha portato a casa la vittoria. Quando Morata e Ken sono partiti dal primo minuto insieme in entrambe le partite uno tra Morata e Ken ha trovato il gol e in entrambe le partite abbiamo portato a casa i tre punti. Quindi eventualmente la statistica Morata più Ken insieme ci aiuta a capire che Juventus ha questo bonus fortuna ha questo bonus tre punti ha questo bonus che ci portiamo dietro e non è assolutamente male in una stagione in cui abbiamo avuto anche tanta sfortuna a lato infortuni abbiamo invece questo bonus e anche questa provate a immaginare i miei occhi ieri quando andavo a incrociare tutti questi dati inerenti a Morata e a notare queste cose molto simpatiche e attenzione perché non ci limitiamo a questo non è solo qui perché con una vittoria oggi recuperi sicuro qualche punto a una tra Napoli e Milan che gioca stasera alle 20.45 attenzione non solo per il discorso Scudetto perché lo so che in tanti credono a Scudetto fate bene se ve la sentite sono il primo a essere contento per voi io ancora matematicamente a livello algebrico faccio un po' fatica a credere allo Scudetto spero di poter cambiare idea tra poco ovviamente se non vinciamo oggi poi è un disastro per tutti quindi vinciamo oggi ma non solo per il discorso Scudetto ma anche per arrivare qualcosa sopra la quarta posizione perché pensare che da qui a fine anno l'obiettivo verosimile della Juventus possa essere solo arrivare quarto un pochino mi dà fastidio quindi attenzione che c'è anche la possibilità di mangiare qualche punto a Napoli-Milan che possono essere tre punti in caso di sconfitta l'uno dell'altra o due punti a tutti e due in caso di pareggio che molto probabilmente è l'opzione migliore per la Juve attenzione e quindi oggi vi chiedo davvero solo questo la vittoria ragazzi ragazzi andate in campo e vincetemi questa partita voglio vedere questo abbracci sorrisi gruppo squadra voglia di portare a casa un risultato che spese a Juventus non so sembra banale ma oggi è importantissimo perché è lo spese a Juventus che può veramente cambiare il volto del campionato della Juventus da qui alla fine fino alla fine e non voglio veramente avere più brutte sorprese le prossime tre partite sono tre partite da tre punti tutte e tre non deludetemi e non deludeteci Forza Juventus grazie a tutti